Una ragazzina che, cioè, ecco già urlano, che è un fenomeno in America, tu devi pensare che è la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica, quindi... Davvero? Ti ho detto una cosa eclatante? Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione, non è né la sorella di Britney Houston, né la cugina di Alex Britney, No Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears! Baby, one more time! Oh, baby, baby, I should...